Francesco Gabbani ieri serata delle cover al festival di Sanremo 2020 ha scelto di indossare una tuta da astronauta e di andare a cantare probabilmente la canzone più famosa di Toto Cotugno, ossia l'italiano. Tra il lusco e il brusco, tra il serio e il faceto, Francesco Gabbani ha scelto di utilizzare un outfit che non è passato di certo inosservato e che ha colpito non poco i presenti. Anche però sul web, su Twitter, molti hanno cinguettato e hanno condannato fermamente questo gesto, mentre invece altri lo hanno accettato di buon grado e anzi hanno scritto Francesco Gabbani mi stupisce ogni giorno di più e mi fa capire davvero come è grande e straordinario al tempo stesso. Però ci sono stati anche commenti non proprio positivi. Sta di fatto che ha stupito un po' quasi tutti, secondo il mio punto di vista, secondo la mia opinione, e questa tuta da astronauta non ha, diciamo così, non ha riscosso un successone, però comunque ha colpito, ripeto, in un po' con l'opinione pubblica. Vi ringrazio per l'ascolto, la sera telecopia era quella di Iido e Tosca, vi ricordo che ha trionfato. Iscrivetevi al prossimo video. Iscrivetevi al prossimo video.